Ciao ragazzi Allora Io sto 30 secondi fa stavo dicendo Bello il pareggio giusto Ci sta molto bene Nessuno Cosa e tutto Poi abbiamo preso gol Sono passato 10 secondi a quando abbiamo preso gol e mi devo sfogare Perché prendere gol di nuovo all'ultimo mi fa incazzare nero Un'altra volta Come cazzo si fa Un'altra volta a prendere il gol Un'altra volta Tutti all'ultimo li prendiamo Vittoria del Fosinone Immeritata Giustizio al pareggio Immeritata la vittoria Di una e dell'altra squadra Però porca troia Genua Porco 2 di nuovo Di nuovo Di nuovo Apriare gol Cazzo Io adesso non ho neanche guardato bene il gol L'abbiamo preso punto e basta Non so se era un errore È stata un'azione della donna Non lo so Abbiamo preso gol e basta Alla fine è quello Abbiamo preso gol Di nuovo All'ultimo Porco 2 Che palle Che è Posso solo dire che palle Che palle Gol all'ultimo Un'altra volta Non so neanche quante volte abbiamo preso gol all'ultimo Un'altra volta gol all'ultimo Che palle Così lo chiamerò il video Che palle Comunque Proviamo ad analizzare È finita adesso Proviamo ad analizzare la partita con calma e raziocinio Anche se è difficile oggi Molto difficile Più a tempo Allora Partiamo dalla formazione Genua Che gioca con Tre titolari Fortunati Retechi il solito Gudmundson E E Bani Prende il ruolo di Gudmundson Un super Malinowski Prende il posto di Bani Per il posto di Bani Lo prende Vogliacco Che fa una partita titolare Dopo non so quanto tempo E E poi Gioca Posso dire Tebbi ovviamente Puskas Che era bello pimpato D'avere fatto Una partita in Romania Primo tempo Vogliacco Lo vedo un po' Spaisato Comunque il Genoa gioca Prende gol Porco Poi ne parliamo Come prende gol Il primo gol del Genoa Poi ne parliamo E poi una magia Mamma mia Mamma mia Una magia Che mi ha fatto sborrare Bellino Lo dico proprio Mi ha fatto sborrare Mamma mia Malinowski Che cazzo ha messo Sotto il 7 Sotto il 7 Che bello Da 25 metri 25 come gli errori arbitrali Arbitro cornuto Belin che non so manco Da dove cazzo è uscito Sto arbitro qua Da Gialli a Stestremanca Ovviamente a Frosinone È zero Ma perché funziona così Con noi Da pure arbitro A Giallo A Girardino A Vogliacco Sabelli Frendru Frendru Vabbè l'unico meritato Probabilmente Non vede un rigore Non era un rigore Però comunque Non vede un fallo Di mano Palese Di Dragusin Al limite dell'aria Proprio Così proprio Fuori E niente Secondo tempo Gioca bene Mette Messias Messias Mamma mia Anche lui Appena entra Fa una Fa una cavalcata Che la mette Quasi in porta Bellissimo Tutto sarebbe stato bellissimo Giustissimo E bello E invece no E invece no Sto cazzo di Monterisi Come cazzo si chiama Ho visto il suo nome Me lo sono messo Sulla lista nera Black Note Se lo becco per stata Una smontante Lo ribalto Porca troia Come cazzo si fa Porco due All'ultimo All'ultimo Pop e flop Allo Top Famone tre Come al solito Ti direi Allora sicuramente Vabbè Malinowski Ragazzi avete visto Malinowski Mamma mia Si è dovuto togliere Dopo un po' Perché ovviamente Sentiva la stanchezza Ha fatto gli europei Comunque Ha giocato poco Ma comunque gli lamenti Cazzi e mazzi Comunque giustissimo Malinowski Prende il ruolo Di 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 Gunmundson In una marita Benissimo Cioè Io Non avrei mai pensato di dirlo Non ho sentito la mancanza di Gunmundson In campo Sentimentalmente In Gunmundson Il mio padre C'è pure la bandiera Però Cioè Fa Fa Gunmundson Fa Gunmundson E questo vuol dire anche che Giardino Proprio Nel suo gioco Gioca con un Gioca con un Ruolo che ha inventato lui Il Gioca Il Giolli Il Giolli Il Giolli è il ruolo di Gunmundson Che ha inventato Giardino Era il ruolo di Malinowski Che l'ha reinventato Come il Giolli Anche Anche Maimowski Quindi ha fatto Gunmundson E ha tirato Quella cazzo di bomba Ragazzi Quella bomba Mamma mia Meglio addirittura Di Badel Di Badel L'anno scorso E Un paio di partite fa Ragazzi Che cazzo di tiro ha fatto Bellissimo Sotto il 7 Così da nulla Turati Ci ha provato Mamma mia Bellissimo Come rovinare una partita Ragazzi Come rovinare una partita Ragazzi Ragazzi La perfetta A parte sta cacata E E poi niente Un altro top Pensiamo Allora Perché io Se l'avevo già tutti pronti Dicevo Stavo già pensando A come fare il video Quando sta finendo la partita Con tutta la roba Adesso Sono tutto Annebbiato Dalla rabbia Vi direi Altro top Puskas Io ve lo dico Puskas oggi è stata Una bella soddisfazione Primo tempo Purtroppo Non è stato servito Per un cazzo Infatti L'abbiamo dovuto Far ricorrere A un super tiro Di Malinowski Però Puskas Bellissimo Non ha fatto la punta Perché non è il suo ruolo Alla Il giardino L'ha messo più come Un'ala Cioè L'ha messo come prima punta All'inizio E non ha reso Io non so come cazzo Fa essere una punta Non è una punta Sto qua Non gioca come punta Poi Il secondo tempo Lo mette come Ala Lo arretra E benì Dalle palle Difende bene Cioè Nella fase offensiva Era discreto E quindi Una bella soddisfazione Vederlo comunque Che qualcosa fa Non è una punta Però ragazzi Puskas non è una punta Non può giocare come prima punta All'area Teghi E poi messias Raga Messias Solo per quella cavalcata Ragazzi Da partito Un contropiede assoluto Messias Pam pum pim E poi Non mi ricordo Se aveva un tipo Steccato Oppure qualcosa del genere Però Bene Cazzo Che cazzo ha fatto Messias ragazzi Bello bello Mi è piaciuto Bello vederlo subito Dall'infortunio Bello sapere Che l'infortunio Comunque Non l'ha Diciamo Acciaccato Non è Non è peggio Perché comunque è stato fermo Due mesetti Scusate se muovo troppo La videocamera Ma sto ancora tremando Dalla rabbia Ragazzi Non avete idea Dello sforzo Che sto facendo A parlare Normalmente E Niente Flop Flop L'evidenziatore Ragazzi L'evidenziatore Calcio d'angolo Non mi ricordo bene Palla sulle Tira da fuori l'aria Anche lui Martinez È sulla traiettoria Si accascia Sviene Gli sparano Una gamba Da quel che ho capito La intercetta pure La palla E gli si piegono le mani Non riesce a prendere La palla Ed entra Martinez Porco due Il tuo ruolo Far portiere Manco quello Il resto della partita Te l'ha fatto normalmente Cioè Nulla di che Però Cazzo Capisci Che se non facevi Quella cappella Magari un pareggio Potevano fare Certo Avrei rossicato lo stesso Perché comunque Ci facevano sempre gol All'ultimo Però Comunque Martinez Dai Che cazzo Ma porco due Un paparata Dai Sei accasciato Mi hanno sparato Una gamba Flop Questo È dal posto Nel flop Altri flop Ho sentito Su Telenord Che Crocifiggio Evano Ups Sinceramente Non mi sento Di crocifiggerlo Come hanno fatto tutti Non mi ha dispiaciuto Faceva il suo ruolo Sia il playmaker Faceva Dava molte palle in mezzo Certo Non è stata la sua migliore partita Però Comunque La partita l'ha fatta Ha messo molte palle in mezzo Alcune l'ha sbagliate Vabbè Ragazzi Cosa ci pretendiamo Non è Messi Non è Non è Un Modric Un De Bruyne Però Comunque Belì La fa Però Non è un flop Un flop Mi sentirei di dire Nel primo tempo È stato flop Certo Vogliacco Flop Certo Però poi Si è saputo riprendere Ha difeso molto bene Però Primo tempo Sicuramente Sarebbe stato flop Vogliacco Flop In primo tempo Vogliacco Sente anche un po' Come dire Non credo fosse più Nervosismo Non fosse più La mancanza Di giocare partite Da titolare O comunque Per molto tempo La mancanza Un po' Come dire Non dell'esperienza Ma comunque Della pratica Della partita Non che fosse nervoso O cose del genere Che poi comunque In delle ispezioni Si è visto Comunque che Dava carica Alla squadra Era bello motivato Cosa che Rende di vogliacco Un grande Cioè Quelli che ci mettono La voglia Hanno già una marcia in più A prescindere Anche se Sono come Yeboah A livelli di Anche se ci mettono La voglia C'è una marcia in più Per me Però Sì ragazzi Direi flop Vogliacco Non flopissimo Ma flop Floppissimo Sicuramente Martinez Ma flop Non ce ne sono Un altro flop Eh un altro flop Strotman Ma mi dispiace Quasi Perché Strotman purtroppo Inizia a sentire gli anni Si vede che ha la tecnica Si vede che comunque Fa la sua partita Si vede che ci prova Però ragazzi Ormai c'ha Quanti anni E Google Quanti anni ha Kevin Strotman Kevin Strotman Ha 33 anni Ha 33 Mi aspettavo pure di più Comunque C'ha i suoi anni Ragazzi C'ha i suoi anni Ed è ovvio Che Non riesce più a correre Giardino Vuole uno che corre Poi Gli dà una batosta Finale Un infortunio E quindi Poi mette Torsby E Torsby Si adegua Il gioco del Genos È un gioco veloce Un gioco comunque Non Non Fermo Come il gioco di Strotman Che comunque Il suo alla squadra Lo dà ragazzi Non giriamoci intorno E niente Direi questi Una parentesi Speciale per l'arbitro Non Zafferini Vembrini Come cazzo Schiamato Ma quello che ho capito Era tipo una prova Non ho capito Perché l'anno scorso Aveva fatto un errore Madornale Che Sinceramente Non so neanche Quando Però a quanto pare Aveva fatto un errore Madornale Questa era un po' La sua partita La ridenzione La seconda Possibilità Dell'Aia Secondo me Sarà un po' Ciucciata anche questa Di opportunità E quindi sto qua Mi sa che lo rivedremo Se lo rivedremo Lo rivedremo Tra un paio d'anni In serio Che non vede molto Ha cartellino giallo Facile Per noi Per noi Ragazzi Per noi Sempre facile Una partita Che comunque Sabelli Poi Sabelli Voglia Coprimi Fra tutti E poi E poi Anche Un po' Così Un po' Nervosi Però Non lo so Ci sta Vuoi vincerla Vuoi iniziare un po' Al meglio Dopo la pausa nazionale E niente Adesso abbiamo Empoli Se non sbaglio Sono fumato Abbiamo Empoli E poi Monza Monza Sono in trasferta Dovrei essere in trasferta Ragazzi Quindi Magari Faccio il cazzo Un blog Non lo so Cosa cazzo farò E niente Ragazzi Torniamo Al Ferraris Con la testa Torniamo Al Ferraris Con Gudmundson Che Gudmundson Malinowski Se giocano Come giocano Porca troia Ragazzi Speriamo bene Per Riteghi Se Contro Empoli Giochiamo Con un trio D'attacco Delle meraviglie Con Riteghi Gudmundson E Malinowski Ragazzi Sborro Ciao ragazzi Forza Genova